Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, perdonatemi l'assenza di ieri ma purtroppo la febbre mi ha intato fortissimo, oggi invece mi sento un peletto meglio e quindi il tanto atteso video di tattiche che vi avevo promesso, eccolo arrivato per voi. Oggi vi vado a raccontare un po' le tattiche che sto provando principalmente e che mi hanno permesso di arrivare praticamente in divisione 2, mi manca l'ultima partita che non ho avuto ancora il tempo di fare. Quindi mettetevi comodi e partiamo subito. Eccoci all'interno della rosa che come potete vedere è già abbastanza avviata perché tra un po' di sculata e qualche scioppatina insomma mi ha detto abbastanza bene. Ma comunque la cosa fondamentale di cui bisogna iniziare a parlare è che quest'anno il modulo di partenza di solito coincide anche a quello che poi effettivamente è il modulo di gioco. Perché è possibile ancora cambiare modulo e vedremo come, però diciamo che questo è reso più complicato dal fatto che andando a cambiare modulo i giocatori non possono essere messi in posizioni che non ricoprono. Vi faccio un esempio stupido, ad esempio se noi volessimo giocare la Puteias come attaccante come magari si faceva l'anno scorso non potremmo perché come posizione ha solamente il CC e il COC e se lo andiamo a schierare da ATT non avrebbe i ruoli per poter giocare in quella posizione. E quindi andrebbe a muoversi malissimo e sappiamo quanto siano importanti i movimenti quest'anno. Quindi il cambio modulo è possibile però va fatto con criterio e quindi costruire una squadra che ha già al suo interno anche la possibilità di avere un secondo modulo di riserva. E come si fa a cambiare modulo? Nella gestione delle tattiche voi andate su nuova tattica, create la nuova tattica, una volta che l'avete finita la salvate. E poi come al solito, come si faceva anche l'anno scorso, dalla partita con le freccette, freccetta in basso, vi andate a selezionare la tattica che avete preimpostato. È facilissimo. Mentre veniamo a noi, quello che è il modulo che sto utilizzando e che mi ha portato in divisione 2, che è il 4334. Un modulo che ho trovato molto bilanciato e che la presenza del trequartista facilita in maniera incredibile a fare gioco. Gli esterni pure li ho trovati molto importanti in questo avvio di FC25 per cercare di aprire il campo, visto che le difese in area di rigore sono abbastanza forti rispetto all'anno scorso dove la CPU invece in area era un po' più bassa e quindi per cercare di aprire degli spazi gli esterni aiutano tanto. Ma veniamo a vedere un po' quella che è la situazione relativa a come ho impostato il tutto. Allora, innanzitutto la prima parte che troviamo quest'anno delle tattiche è quella delle tattiche di squadra. Quindi ovviamente una tattica personalizzata, il modulo 4334 offensivo e lo stile di costruzione della manovra è passaggi corti. Ho deciso di utilizzare passaggi corti in maniera tale da avere giocatori più vicini quando vado in ripartenza e quando mi ritrovo anche ad impostare perché con equilibrata li ho trovato un po' troppo statici e con contropiede invece li trovavo un po' troppo indisciplinati e fuori posizione. Invece con equilibrata, con passaggi corti scusatemi, mi sono trovato molto bene e i giocatori cercano sempre di liberarsi e farsi trovare smarcati. La linea difensiva l'ho piazzata su alta, semplicemente cambiando dunque con le freccette senza andare a muovere con triangolo perché con triangolo potete anche mettere magari 75, quello che preferite. Ho messo un parametro alto ma di default perché a me la linea difensiva alta piace abbastanza soprattutto con difensori che sono abbastanza rapidi come magari può essere un militao abbinato al suo ruolo che dopo vedremo ti danno una gran mano e ti aiutano a ripartire e cogliere la squadra avversaria scoperta. Quindi attualmente sto utilizzando questa tattica qui. Non ho messo più di tanto perché non voglio invece lo spam della trappola del fuorigioco in automatico dalla parte della mia difesa perché potrebbe lasciare dei buchi che sono indesiderati. Veniamo però adesso ai ruoli, ruoli che sono la parte cruciale di quest'anno che come vi ho detto anche nei video di presentazione di FC25 corrispondono e coincidono esattamente a quelle che erano le istruzioni dell'anno scorso quindi i ruoli non fanno altro che determinare quello che è il movimento di questi giocatori all'interno del campo sia il movimento senza palla che è quello che vedete in questo momento sia il movimento con la palla. Come fate a selezionare questa visuale differente? Semplicemente con l'analogico destro, fate destra e sinistra e andate a muovere tra le due visuali. Qual è l'obiettivo di base quando si crea una tattica quest'anno? Andare a determinare ed impostare i ruoli in maniera tale che quasi tutto il campo sia coperto da hit point quindi i giocatori vadano effettivamente ad impattare in quelle zone di campo altrimenti se si lasciano dei buchi è un problema perché in quei buchi là poi venite puniti sistematicamente dall'avversario. Un altro tema fondamentale che spesso mi è stato chiesto ma quindi conviene sempre mettere il giocatore con il proprio plus o il proprio plus plus la risposta secondo me al momento è ni. Ni perché non è detto che per forza di cose dobbiate utilizzare il plus plus se magari voi a quel giocatore gli volete richiedere un ruolo e una posizione diversa invece se preferite utilizzare il plus plus il giocatore comunque ha un movimento migliore rispetto al plus o ovviamente rispetto al non avere niente. La differenza è abbastanza sensibile ma vi ripeto io per esempio per buttarvela lì la guiarro non la utilizzo con il suo plus perché voglio che giochi un po' più arretrata ma adesso ci arriviamo. Quindi partiamo subito con quella che è la porta dove Allison ho scelto di giocarlo con portiere fuori dai pali plus plus con compito bilanciato perché anche quello si può modificare il portiere fuori dai pali fa praticamente quello che faceva il portiere moderno in grado di sventare le conclusioni e supportare la manovra offrendo un'opzione di passaggio quindi cercherà di uscire bene quando magari si ritrova negli uno contro uno e offrirà anche un'opzione quando stiamo impostando. La linea difensiva adesso è subito cruciale perché anche qua è molto importante come l'andate a delineare. Partendo dai due difensori centrali ho scelto di giocare con Virgil con regista difensivo plus plus con compito difensivo quindi un po' più arretrato piuttosto che costruzione manovra per evitare che sia un po' troppo alto quando vado a costruire e il regista difensivo plus plus è abile sia nel salire quindi e portarsi avanti la linea per il fuorigioco sia che allargarsi per poter supportare quella che è la nostra manovra. Quindi vedete qui la zona di campo coperta è una zona di campo anche abbastanza avanzata per il discorso che vi dicevo prima del recupero del pallone. Militao l'ho messo su stopper plus in questo caso abbiamo dunque un difensore che tende a salire per intercettare passaggi e guidare il pressing anche in questo caso cobilanciato e questo con Militao si sposa alla perfezione perché è un difensore agile, veloce e che quando magari va a vuoto riesce anche a recuperare l'intervento sbagliato. I due terzini ovvero la Rolf e Cancelo ho impostato la Rolf col tornante offensivo plus plus che quindi fa la fascia a tutto campo ed è un po' quello che è il terzino sbloccato del passato con equilibrato e non con attacco per evitare di lasciare troppi buchi che già alle volte se perdiamo palla potremmo fare fatica a difendere su quel lato lì mentre Cancelo non ho scelto di utilizzarlo con il suo plus che è il terzino di spinta ma con terzino bilanciato in maniera tale da avere un terzino che rimane un po' più dietro vedete a comporre proprio la linea difensiva senza strafare perché altrimenti ci ritroviamo con troppi buchi. A centrocampo invece la Ghiarro come vi dicevo in precedenza ho deciso di giocarla con centrocampista di contenimento che come potete ben vedere si abbassa tanto per ripiegare davanti la difesa e in particolare grazie al suo playstyle del L1 triangolo poi da una gigantesca mano anche per ripartire con cambi di gioco super precisi compito l'ho messo difensivo. De Jong piazzato con il suo regista plus plus perché in questo caso con Svaria vedete che occupa praticamente la porzione di campo complementare a quella della Ghiarro quindi ho coperto tutto il centrocampo impostando i due centrocampisti così mentre la Puteias nel ruolo di trequartista la vado a giocare con attaccante ombra che come potete ben vedere si va a buttare in area di rigore facendo praticamente diventare questo alcune volte un 4-2-4 quando andiamo ad attaccare perché la hitmap è praticamente all'interno vicino a Vinicius. Sui nostri due esterni utilizzo il regista largo plus plus su Neymar con compito offensivo in maniera tale che come potete vedere copro bene tutta la fascia senza lasciare dei buchi e Neymar è bello largo e mi facilita l'entrata in area di rigore e magari la ricerca della scaletta. Dall'altra parte Salah con attaccante interno ha più o meno gli stessi movimenti ma vedete quelli che fa maggiormente sono quelli più chiari quindi va più per vie centrali e va esattamente a fare il movimento complementare anche in questo caso a Neymar mentre per quanto riguarda Vinicius utilizzo attaccante avanzato con offensivo e non con completo perché come potete ben vedere da questa schermatina con completo rischierebbe di andarsi ad allargare un po' troppo mentre invece con offensivo noi ce l'abbiamo dentro l'area di rigore e quindi quando noi abbiamo la palla tra i piedi la squadra diventa praticamente così con loro tre che compongono questa linea avanzata la Puteas immediatamente dietro Guillaro e De Jong con una un po' più dietro e una un po' più su la difesa perfettamente impostata con la Rolfo che si aggrega alla manovra offensiva e quindi diciamo che il lato sinistro è il nostro lato più forte qualora abbiate dei problemi a difendere la Rolfo vi dà fastidio che sale troppo anche in questo caso magari la andate a mettere semplicemente con un terzino equilibrato e vedete che qui andate a completare la linea difensiva in maniera perfetta in questo caso quindi andiamo a vedere quelle che sono poi le analisi che fa il gioco su quella che è la nostra squadra una squadra sempre all'attacco che fa poca fatica ha un ottimo spazio tra le linee ha magari una copertura difensiva leggermente inferiore rispetto alla media c'è un po' troppa densità al centro e ci dice che è una costruzione senza logica ma in realtà la logica è come perché con questa squadra mi andate a ricercare tantissimo le fasce andate a ricercare l'isolamento della punta con lo speed boost la logica è quella che quando si riparte di solito si fa sempre sulla punta e poi se c'è spazio si punta e si va in corsa oppure si allarga sulle due fasce e si costruisce la manovra ripeto mi sta dando tante soddisfazioni al momento questo modulo in settimana poi ne proverò tantissimi ma la cosa importante raga che sto dicendo veramente in loop infinito in questo momento anche quando faccio le live è che la bellezza di questo gioco è che si può sperimentare veramente tanto e potete trovare anche voi una vostra quadra trovate poi nella descrizione del canale scusatemi del video il codice delle tattiche di questo modulo se volete copiarlo senza fare troppa fatica e poi ovviamente qualora dovessero esserci delle novità vi aggiorno ragazzoni per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se proverete questo modulo se già lo stavate utilizzando io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma viola un like e l'iscrizione sempre graditi un saluto nel vostro liberoschi e a presto ciao 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 ciao